Buonasera ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gabbo e siamo qui nella seconda par... Eh sì, seconda partita, certo Seconda parte della 2 contro 2 tra Zidro e Joshua contro Wow e Giulia Albania Sì, siamo qui nel secondo round Questa partita dura... Questo round dura 3 minuti, ragazzi, vi avevo già spiegato nello scorso episodio Che praticamente se unisco la clip mi esce 1 minuto 7, non ci posso far niente YouTube messo così Quindi ragazzi, allora, in questo round ci vediamo Giulia Albania e Wow in difesa con Smoke e Valkyr E ora uso sempre Valkyr perché è veramente forte ma non lo uso con lo Spass, sì Lo Spass è forte, lo so, però io preferisco l'MPX, mi sembra che si chiami così Preferisco quella, armi che sparano lontano le preferisco Sempre che punto sempre la testa, quindi Invece in attacco vediamo Zidro e Joshua con l'Ash, sempre Ash E Zidro con il Blackbird, anche loro Con questa tattica l'avevano fatta anche prima Giulia Albania e cosa E wow, e la rivediamo qua Oh, va Zidro con il robottino per vedere dove sono E Valkyr si è messo nello stanzino Qua c'è il Smoke che non mi sarei mai messo così perché è troppo prevedibile Ma vabbè Allora ci vediamo Ashley, adesso vediamo cosa fa Io avrei piazzato, io piazzerei la carica Cosa sta facendo? Non lo so Io avrei piazzato la carica, me ne sei andato dal bagno Avrei piazzato, avrei fatto saltare lì Con il lancio granate avrei fatto saltare il bagno E poi niente, attenzione, attenzione, attenzione Valkyr che spara dal muro E Zidro che è ancora fortunatamente vivo Non so, ma non ha fatto ucciderlo con lo spas C'è il buco lì Vediamo un po' Cosa fa, Ash ha sfondato la finestra Sì, infatti Smoke è dietro al coso Ma sì, Ash passa lì tranquilla Ma attento qua Qual è il problema? Neanche che so un po' affacciarsi Allora, la vita è brutta Voglio vedere un attimo valkyr perché Signori Mi sa che Se Zidro non gli dice che lì c'è un buco Secondo me L'ammazzo Guarda Secondo me è venuta uccisa Guarda, guarda Dai, l'avevi vista Perché Zidro non glielo dice Guarda che dopo poi si fa una doppia Eh, vabbè Zidro glielo doveva dire a Joshua Che lì c'era un buco E c'era valky con lo spas Vabbè, errore loro Aspetta che ho appena visto una cosa Dove sta andando giù la bagna? Attenzione Mamma mia, signori Che brutta mossa Da parte del coso Avevano uno spas E l'hanno in due Potevano chiudere Zidro Adesso ci vediamo loro Comunque ragazzi Questa è la fine del secondo round Spero che il video vi sia piaciuto Domani mattina vedete Il terzo round E quindi ci vediamo domani Bye